Mi chiamo Patrice Tarella e sono l'amministratore unico di Vigna Maggio. Io sono convinto che le monoculture, che siano vegetali o umane, delle società umane, fanno malattie, fanno impoverimenti. Dunque ho provato e abbiamo fatto di uscire del binomo ulivetto e vignetto per fare una cosa che sia più, per far diventare Vigna Maggio, un mosaico agricolo. E questa biodiversità porta veramente il suo risultato su tutta l'azienda, anche sul vino, perché tutte queste piante si arricchiscono l'uno tra l'altro. Dove si fa il vino, abitualmente sono delle zone che sono armoniose, le persone sono come il territorio, non sono rudere come delle persone che vanno nell'alta montagna, sul mare, sulle navi. Sono persone che sono tranquilli e che sanno il valore dell'attesa.